E' chi che esibisce numeri da Serie B e forse anche qualche cosa di più per l'atteso derby promozione fra Salernitana e Benevento. Oltre 21.000 gli spettatori presenti, quasi 2.000 quelli provenienti dal Sannio. Si manovra molto ma si tira poco nel primo tempo. Dopo la conclusione forte ma centrale di Colombo al nono, bisogna infatti attendere la mezz'ora per assistere alla replica degli ospiti con Campagnacci. Poi Pane compie due grossi interventi. Il primo sul diagonale velenoso di Nalini, il secondo importantissimo sulla deviazione ravvicinata di Mendicino dopo un cross dell'incontenibile Nalini. Ma in apertura di ripresa la Salernitana passa. Sempre dal piede di Nalini parte il traversone corretto di precisione da Gabionetta che stavolta mette fuori causa il portiere avversario. Subito vicino al pareggio con Eusepi che non trova la porta sul suggerimento di Alfageme, il Benevento rischia ancora sul tiro di Gabionetta. Poi finisce al tappeto dopo il contatto in aria fra Scognamiglio e Colombo. Toccato al viso il difensore Granata crolla a terra per l'arbitro Serra e calcio di rigore. Khalil dal dischetto firma il 2-0 ed il sorpasso in classifica della Salernitana ora al comando con un punto in più e in vantaggio sugli scontri diretti. Meglio di così Menichini non poteva sperare mentre dall'altra parte Fabio Brini analizza gli errori commessi dalla sua squadra. Sì direi una grande giornata, una giornata di festa, dedichiamo questa vittoria ai nostri tifosi che sono stati straordinari, che ci hanno trasmesso quella carica, quell'entusiasmo che ci ha permesso di superare un grande Benevento. L'unica cosa è che noi abbiamo sicuramente sbagliato troppo anche le cose più semplici in certi momenti e soprattutto poi negò che la Salernitana sia riuscita a fare in secondo tempo. Abbiamo sbagliato dei palloni in uscita che non dobbiamo assolutamente commettere.